La domanda che vi voglio porre oggi è Serve imbrattare opere inestimabili di grandi artisti come gesto di attivismo? In questo video cercheremo di rispondere a questa domanda. Ma prima? Salve a tutti, sono Bob Ampesov e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi parleremo di arte e attivismo. Da qualche mese a questa parte stiamo assistendo ad una serie di atti che personalmente definisco vandalici nei confronti di alcune opere d'arte inestimabili da parte di giovani ambientalisti. Uno dei primi casi, e forse quello più eclatante, risale a maggio del 2022 presso il celebre Museo del Louvre dove fu addirittura la gioconda di Leonardo ad essere presa di mira colpita da un attivista con una torta. Ci feci anche una mini storia fumetti a tema che vi straconsiglio di andare a leggere sul mio profilo Instagram fatemi sapere se vi è piaciuta. Vi lascio il link in descrizione. Ma chi sono questi ambientalisti? Il movimento internazionale si chiama Extinction Rebellion. Si presenta come un movimento di protesta apolitico che utilizza l'azione non violenta ripeto, non violenta e su questo punto ci torniamo poi dopo e disobbedienza civile con lo scopo di convincere i governi mondiali ad intervenire immediatamente sull'emergenza climatica ed ecologica. Vi lascio il loro sito in descrizione magari per approfondire meglio. In Italia nel 2021 è nata una costola legata a questo movimento chiamata Ultima Generazione. Per farvi capire da dove deriva il loro nome leggo questo estratto direttamente dal loro sito. Ultima Generazione è una campagna italiana di disobbedienza civile non violenta che dal 2021 unisce semplici cittadine e cittadini proprio come te, preoccupati per il proprio futuro e per quello di chi verrà dopo di noi. Eh sì, perché le scelte che l'umanità non sta prendendo ora delineranno un futuro dal quale non sarà possibile tornare indietro. Siamo l'ultima generazione in grado di fare qualcosa. E' un po' come i discendenti della scuola di Okuto prima dell'esplosione atomica. Wow. Questo gruppo di attivisti è lo stesso che vediamo bloccare il traffico creando file chilometriche sul raccordo annulare della capitale cosa alquanto discutibile e forse questa striscia ne è la chiara dimostrazione. Ma perché lo fanno? Il lancio della zuppa sull'opera di Vincent van Gogh esposta a Palazzo Bonaparte a Roma dello scorso ottobre e opera di due attiviste del gruppo di ultima generazione. Va detto una cosa importante non si presenta solo come movimento di protesta ma anche come campagna italiana di disobbedienza civile con delle proposte concrete. No centrali estrazioni carbone no alle trivellazioni per l'estrazione del gas sì incremento di energia solare ed eolica. Bene. Ormai un po' tutti noi ci sentiamo di condividere questa grande battaglia giusto? Tranne Sgarby che è allergico alle paleoliche non si sa perché. Per questo mi sono chiesto come possa il lancio di una zuppa di pomodoro addosso ad opere inestimabili di grandi artisti come i girasoli di Van Gogh le mule di Claude Monet o la meravigliosa opera romanticista di Hey Wayne di John Constable una delle poche a subire dei danni effettivi dopo che un attivista letteralmente si è incollato all'opera supportare una battaglia ambientalista è questo che mi chiedo. Se la causa alla base può essere condivisa da molti il gesto in questo caso sembra portare più l'attenzione sugli attivisti che la compiono più che sulla motivazione che li spinge a farlo. A questo punto però ho deciso fosse interessante leggere la definizione di attivismo e senza fare molti sforzi sono andato su Wikipedia. Sono considerati i gesti di attivismo tutti gli sforzi per promuovere, impedire, dirigere o intervenire attivamente nella riforma sociale, politica, economica o ambientale. Ora, quante persone comuni hanno davvero colto quale sia il reale motivo celato dietro questo gesto di protesta? Lottano contro cosa? Come combattere il mondo? Penso che questi attivisti sembrino avere la presunzione di essere loro gli unici veri paladini che si stanno preoccupando del disastro climatico che stiamo affrontando mondialmente. Come se la politica non ci stesse mettendo abbastanza di impegno o meglio, si stesse completamente disinteressando al tema. Soprattutto in questo periodo difficile dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. In questi giorni, durante la COP 27 2022 ovvero la 27esima conferenza sul clima a Sharn el-Sheikh in Egitto presiedono 100 capi di Stato, tra i quali anche la nostra Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tra i temi della Convention troviamo mantenere l'aumento del riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi accelerando la riduzione delle emissioni. Lo stesso obiettivo, in realtà, era presente anche nella scorsa edizione del COP 26 2021 a Glasgow in Scozia. Proprio in quella occasione, il documento firmato da 200 Paesi si è posto l'obiettivo di decarbonizzazione entro il 2030 con la riduzione del 45% di emissioni di CO2 rispetto al 2010 per arrivare al 2050 con zero emissioni nette. Cosa significa? La somma delle emissioni prodotte dovrà essere pari a quelle rimosse. L'impegno dei 200 Paesi era quello di aggiornare lo stato di decarbonizzazione alla conferenza successiva, ovvero quella del 2022. E come sono andate le cose? Malissimo. Lo scoppio della guerra in Ucraina e l'attuale crisi energetica ha decisamente inserito il freno a mano sul processo di decarbonizzazione di molti Paesi, soprattutto quelli europei. Quindi tutti noi dovremmo preoccuparci seriamente del periodo che stiamo vivendo e avere a cuore il cambiamento climatico. Anche se egoisticamente gioiamo nel vivere questa meravigliosa primavera a novembre, che ci porta a ritardare l'azionamento dei nostri termosifoni. L'individualismo è potente in noi in questo momento. Sono un grande appassionato di arte e trovo il gesto provocatorio di lanciare una zuppa contro un'opera veramente rivoluzionaria come i girasoli di Van Gogh un atto estremamente violento. Per questo sento che sia proprio in contrasto con il concetto di disobbedienza civile non violenta. L'arte è sempre stata un mezzo di comunicazione e anche di dissenso e di protesta. Basti pensare alla Guernica di Picasso contro la violenza cieca dei bombardamenti e di tutte le guerre. Ed è ancora attualissima. E l'arte ha saputo anche rappresentare il problema del cambiamento climatico che stiamo affrontando. E dell'artista indiano Arun Kumar, Dropping and the Dam, la scultura realizzata interamente da 70.000 tappi di bottiglie di plastica raccolti in tutto il mondo. L'artista è riuscito a creare un affascinante moto ondulatorio che riesce a trasmettere emozioni come solo una natura ci può offrire. Ice Watch, dell'artista internazionale Olafur Ellison e del geologo Ming Rosing. È un'installazione artistica di 12 blocchi di ghiaccio recuperati dalla calotta glaciale della Groenlandia e disposti per creare un orologio. Rappresenta il tempo che passa e la temperatura che si alza. Lo spettatore interagisce con l'installazione, vivendo un'esperienza visiva e acustica unica. Il rumore del ghiaccio che piano piano si scioglie e libera bolle d'aria racchiuse da migliaia di anni che riproducono suoni unici e inquietanti. Quest'installazione è stata riprodotta in passate edizioni della Copp. La giovane è Dinatakodi, street artist che utilizza unicamente il muschio per realizzare le sue installazioni. Il suo compito è sempre stato quello di attirare i passanti, le persone comuni e invitandogli a riflettere sui temi ecologici che affliggono la società moderna. Ok? Torniamo a noi. Cari attivisti, visto che avete tanto bisogno di lanciare delle zuppe confezionate, non fatte in casa con le verdure chilometro zero dell'orto da non, ricordiamolo, per ottenere la nostra attenzione, perché solo voi avete il desiderio di apportare cambiamenti nella società verso un bene più grande e percepito, sempre e solo da voi, cosa ci volete trasmettere? Nonostante vi dichiariate campagna italiana di disobbedienza civile non violenta, fate un gesto comunque violento. Quindi come dobbiamo intendere la vostra intenzione di non violenza? Secondo voi una singola opera d'arte può ipnotizzarci a tal punto da portarci al completo disinteresse del pianeta dove viviamo per portarlo al suo totale disfaccimento climatico a tal punto da dover rasfergiare quell'opera? Io penso decisamente di no. Sicuramente un gesto provocatorio come questo ha davvero focalizzato l'attenzione delle persone su un atto violento, ma non sul problema del cambiamento climatico. E voi direte, le opere sono protette dal vetro e quindi non distruggiamo nulla. A parte che non è vero, come per l'opera di Constable citata prima, la vostra azione passa per essere una provocazione fine a se stessa, che risulta essere dannosa anche per la giusta causa che state e stiamo portando avanti. Sebbene possiamo stare a discutere quanto quella ragazzina svedese sia stata creata a tavolino o meno, Greta Thunberg, con un banale cartello, è riuscita a fare quello che un'avanguardia è riuscita a fare negli anni venti del Novecento. L'arte può essere la forma di attivismo più grande del mondo, ma lanciare monnezza contro di essa non può essere considerata né attivismo né tanto meno arte. Il vostro compagno, Bob Ampeso. Boh, finalmente ce l'abbiamo fatta, ci tenevo particolarmente a fare questo video e parlare di musei anche per parlare di un progetto che ho seguito nell'ultimo anno. Gulp Splash Bang è un progetto realizzato per Moody, Museo Diocesiano di Alba, che ho avuto il piacere di realizzare insieme a Virginia Messina, la mia socia. Insieme agli archeologi e agli storici dell'arte, abbiamo curato i testi storico-artistici sui quali abbiamo realizzato dei video dedicati ad alcune opere presenti nei musei del Moody e del sistema museale albese. Cioè, il Museo Civico Federico Eusebio, la Chiesa di San Domenico e la Chiesa di San Giuseppe. Questi video, o pillole, contengono tantissime mie illustrazioni. Sicuramente vi racconterò di più di questo progetto in un video a parte, ma se volete iniziare a darci un'occhiata, vi lascio il link in descrizione. A presto e fatemi sapere se vi piace tutto questo che sto portando avanti. Alla prossima!